Siamo a Forlì, al campo base della colonna mobile nazionale di Ampas, dove nei giorni passati una delle attività importanti che abbiamo esercitato è stata quella di provvedere allo svuotamento delle masse d'acqua che invadevano sia strutture civili che industriali. Questo è stato possibile grazie a una formazione specifica e una pianificazione che negli ultimi anni la colonna mobile nazionale di Ampas ha portato a termine con l'acquisizione di alcune idrovore di diverse capacità, costituite sostanzialmente da carrellini, su cui hanno trovato posto delle idrovore a media ed alta capacità, media voglio dire che va dai 3.000 ai 6.000 litri al minuto, alta capacità che vanno dagli 8.000 ai 12.000 litri al minuto.